Furto in appartamento disabitato, due arresti nel centro storico dell'Aquila. Servizi strategici istituiti dalla ASL serviranno per promuovere la cultura della legalità. Un volume per consulenti del lavoro, bilancio del libro di Rosa Pestilli, direttore del gruppo Sigulford. Open Day della ricerca si è svolta da Sergi, promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleale. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila hanno tratto in arresto DC di 40 anni e GG di 46 anni, entrambi romeni. I due, rispettivamente un uomo e una nonna, sono stati colti all'interno di un appartamento ubicato in via San Sisto, dichiarato inagibile a causa del sisma del 2009. Fermati, gli è stato chiesto a quale titolo si trovassero in quell'appartamento ed è apparso subito chiaro che fossero entrati mediante forzatura della serratura, essendo senza fissa dimora, pur avendo stabile residenza nella città dell'Aquila. A seguito di ulteriore controllo, sono stati trovati in possesso di numerosi oggetti che per la loro verità è sembrato assai singolari, fossero di loro proprietà. L'uomo e la donna, interrogati sulla provenienza di quei manufatti, non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili. Dal momento che l'attività svolta nella notte dai militari dell'arma era finalizzata a reprimere reati predatori in genere e quelli rifariti ai furti in abitazione di cui molti residenti si erano lamentati, gli operatori hanno proceduto ad ispezionare l'intero stabile. Proprio l'abitazione, posta di fronte all'appartamento dove erano stati trovati due, in passato era stato già visitato da malintenzionati che avevano asportato refluttiva per un valore rilevante. Contattata la proprietaria dell'unità abitativa, le sono stati mostrati gli oggetti rinvenuti nella disponibilità dei fermati e senza ombra di dubbio sono stati riconosciuti i quali articoli custoditi all'interno della sua abitazione. Di conseguenza è apparsi chiaro il collegamento fra le persone fermate, la refluttiva e la loro presenza nelle immediate vicinanze del luogo del furto e pertanto sono stati tratti in arresto per furto in abitazione aggravato in concorso e denunciati per violazione di domicilio per l'ingresso nell'abitazione dove sono stati bloccati. Tre tenuti in caserma sono stati poi condotti in tribunale per l'udienza di convalida. Il GIP, riscontrando la bontà dell'operato dei militari, ha emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere. L'uomo è stato associato in quello dell'Aquila mentre la donna in quello famiglia di Teramo. 14 servizi strategici che dovranno scambiarsi di continuo informazioni sulle rispettive attività, far ruotare il personale e consultarsi di continuo a breve intervallo per promuovere la cultura della buona amministrazione e del rispetto delle regole anticorruzione. L'ASLA, Vizzano sul Monalacuila, molto attenta nel tenere a bada un fenomeno in Italia purtroppo molto diffuso nelle pubbliche amministrazioni, si muove nel concreto e punta sulla prevenzione, mettendo in incubazione i giusti anticorpi per minare alle radici la pianta del malaffare. Nei giorni scorsi ha istituito un apparato di garanzia creato sulla base di specifiche disposizioni di legge denominato Collegio Ristretto dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione, chiamato ad assicurare una continua osmosi di informazioni tra la struttura della ASLA, potenzialmente più esposta al rischio. Ciascuno dei 14 servizi scelti per l'importanza dei compiti loro affidati sarà una casa di vetro all'insegna di una ancora maggiore trasparenza. I responsabili di ogni struttura, di natura dipartimentale o territoriale, faranno capo ad una figura chiamata responsabile per la prevenzione della corruzione, una sorta di supervisore. Nella ASLA questo incarico è stato affidato a Maria Clara Fiorenza, che dirige l'Ufficio Affari Generali dell'ASLA. Oltre alla mutua circolazione di informazioni tra i capi dei 14 servizi, la Costituzione del Collegio Ristretto dei Referenti prevede verifiche serrate, costanti e fatte a brevi intervalli di tempo per accertare se le procedure anticorruzioni vengono rispettate alla lettera e per correggere eventuali deviazioni di lotta. Tra le incompense di cui si occuperà il Collegio di Referenti Anticorruzione ve ne sarà una cruciale, la notazione del personale che lavora nei diversi servizi. Sarà una delle stelle polari alla base del piano di lavoro finalizzato ad impedire che germogli una mentalità in contrasto con la correttezza di gestione delle risorse, con le norme e con regole etiche. I servizi coinvolti in questa azione di prevenzione operano in settori diversi, controlli sui farmaci, lavori pubblici, investimenti, appalti, servizi e forniture, personale, intramoenia, commissioni in varie civili, gestione ed acquisizione di apparecchi elettromedicali, controlli sulle strutture accreditate, affidamento a incarichi esterni, ispezioni in luoghi di lavoro, valutazioni sanitarie di stanze, sussidie e protestica, gestione delle liste di attesa. L'introduzione del Collegio dei Referenti, afferma il manager Rinaldo Torretera, mira prima ancora che a individuare e ovviamente sanzionare fatti corruttivi, a promuovere e a diffondere la cultura della prevenzione. FIVA Commercio della provincia dell'Aquila, rende noto che saranno circa un centinaio le colorate bancarelle che daranno vita alla dodicesima edizione della Fiera di San Massimo che si svolgerà domenica 12 giugno nel circuito adiecente il Parco del Castello ed interesserà via Tagliacozzo, via Castello, via Le Malta, Fontana Luminosa e via Le Gran Sasso. E così ancora una volta nel centro cittadino torneranno le voci, i colori, i richiami degli operatori commerciali su aree pubbliche, tanto care ai cittadini aquilani che da sempre hanno amato incontrare ed incontrarsi tra i tanti banchi dove vengono esposte merci di ogni genere provenienti dalla nostra regione e da altre regioni d'Italia. Quindi l'invito è di partecipare a tutti con gioia ad una bellissima giornata di socialità, di solidarietà per le vie della città, per respirare la sua voglia di vivacità nel sentimento religioso e civile che ha sempre caratterizzato la città dell'Aquila. Dalle modifiche apportate alle linee guida, propedeutiche all'approvazione della misura del piano di sviluppo lorale che finanzia i GAL, la provincia dell'Aquila sarà destinataria di una somma superiore ai 7 milioni di euro. Ad annunciarlo è il presidente della terza commissione agricoltura, Lorenzo Berardinetti, secondo cui nella prima stesura delle linee guida sui GAL si erano riscontrate diverse criticità nella ripartizione finanziaria dei fondi tra l'interno e la costa. Adesso, grazie all'introduzione di nuovi parametri, da me personalmente sono citati all'assessore Dino Pepe, spiega Berardinetti, si è tornato a tenere conto della specificità dei territori in base al grado di ruralità e all'estensione del territorio, oltre che alla popolazione residente. A seguito della modifica alle linee guida, Berardinetti è certo che la provincia dell'Aquila guadagnerà un ulteriore budget di circa 1 milione e 300 mila euro rispetto alla prima formulazione. Per questo voglio ringraziare l'assessore Dino Pepe, conclude Berardinetti, che da subito si è reso disponibile ad un confronto ed ha accolto le mie richieste attivando tutte le procedure amministrative al fine di perfezionare lo strumento che consentirà la costituzione dei GAL sul territorio regionale e di conseguenti investimenti per lo sviluppo delle aree rurali salvaguardando le aree montane più svantaggiate e da rischio di spopolamento della regione Abruzzo. Adunando dalla pubblicazione del volume Modello 231, l'azione preventiva che tutela l'azienda, l'autrice Rosa Pestilli, direttore del gruppo Sicur Forum di Avezzano, ha parlato del successo editoriale del volume che rappresenta un sicuro punto di riferimento per consulenti e professionisti del mondo del lavoro. A riguardo un dialogo tra l'autrice Rosa Pestilli e il giornalista Luca Di Nicola. Sono in compagnia della dottoressa Rosa Pestilli, tra l'altro, tra le altre cose, autrice di questo libro Modello 231, l'azione preventiva che tutela l'azienda che vi mostro orgogliosamente anche perché siamo al compleanno di questo libro, pubblicato appunto un anno fa, avuto grande successo. Ecco Rosa, pensi che sia stato utile ai tecnici, alle persone alle quali era rivolto e continua ad essere rivolto e se sì, come mai? Certamente Luca, sicuramente sì, è un testo che è stato di supporto soprattutto per i professionisti e cultori della materia, non a caso ho avuto un grande piacere ed è stato quello di formare appunto nel mese di ottobre circa 63 professionisti tra avvocati, dottori commercialisti e consulenti come auditor e membro dell'organo di vigilanza. Ad oggi, come feci circa dieci anni fa per il discorso sicurezza sul lavoro, posso ritenermi un'antesignana nella materia 231. Questi 12 mesi mi hanno dato fortemente ragione, una forte convinzione, non a caso questo testo è stato scritto per essere di supporto alle aziende, sia la giurisprudenza ma tutti gli avvenimenti anche un po' delicati che si sono sosseguiti ci spingono verso quella che ad oggi è un'obbligatorietà dell'adozione di un modello 231. Sai benissimo che l'adozione di un modello 231 occorre appunto per avere efficacesimente in sede di giudizio. Ad oggi però gli imprenditori anche della Marsica adottano spesso e volentieri un modello 231 per far sì che venga migliorata la competitività della propria azienda nel mercato europeo ma anche l'attribuzione del rating di legalità. Non da ultimo non dimentichiamo la depenalizzazione dei reati in seguito all'ultimo decreto che appunto nel momento in cui ha abrogato e eliminato il penale su alcune tipologie di reati ne ha inasprito fortemente la sanzione amministrativa a volte anche triplicandola pensiamo appunto anche alla corruzione. Competente, preparata, insomma ferrata come si dice in questi casi ricordiamo infatti giova a ricordarlo che a 21 anni era già una giurista di impresa la nostra Rosa Pestilli qualifica importante raggiunta al termine di un percorso di studi effettuati con successo all'Università dell'Aquila ed è proprio in quegli anni che matura in te l'idea di realizzare, coronare, concretizzare un sogno che era quello di diventare appunto consulente d'azienda. Ma che cosa vuol dire esattamente essere consulenti d'azienda? Bene, allora sì, questo sogno l'ho maturato durante il percorso degli studi all'Università dell'Aquila. Ricordo che comunque la mia carriera universitaria ha avuto un proseguo al di là del confine dell'Italia. Questo mi ha spinto fortemente ad affacciarmi al sistema burocratico e al mondo imprenditoriale anche all'interno dell'Europa. Si parla tanto di globalizzazione. Facciamo un attimo chiarezza. Consulenza aziendale innanzitutto vuol dire avere un rapporto di fiducia con l'azienda. Essere un consulente aziendale vuol dire essere versatile su più fronti. La stessa definizione della ISO 9000 ci dice che la consulenza aziendale è una branca che raggruppa vari settori merceologici e varie tipologie di professionalità. Per cui, per farla breve, non vorrei stare qui a dilungarmi, essere consulente aziendale vuol dire instaurare un rapporto di fiducia con l'azienda ma che si basa su tre elementi fondamentali. Innanzitutto notorietà, acquisizione di professionalità e titoli accademici e un rapporto strettamente personale anche con l'imprenditore. Oggi bisogna essere un po' come il medico di famiglia all'interno dell'azienda per poter capire quali sono i problemi che scaturiscono appunto dalla complianza aziendale. Rosa, tu ami molto i Queen, vero? Sì, penso proprio di sì. Infatti attingerei dall'aforisma che abbiamo anche alle tue spalle, appunto la frase dell'indimenticato Freddie Mercury, per continuare a capire qualcos'altro di te. Insomma, è proprio vero che si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere? È sempre così? Bene, potrei risponderti in maniera molto eronica. Crederci sempre a rendersi mai. Se analizziamo la prima parte del periodo, appunto credere in tutto ciò che si vuole sono i classici sogni che una studentessa può avere durante i banchi di scuola. Pensare di trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere, beh, avere stima in se stessa importante, però per far sì che questo sogno diventi realtà e diventare un esperto nella consulenza aziendale, innanzitutto bisogna maturare e la maturità, come ho detto già prima, la consulenza si basa su questi tre elementi fondamentali. La fiducia con un'azienda si può instaurare in qualsiasi modo, con un'amicizia, con una parentela, con una politica. Il fatto di avere moltiplicità di titoli accademici, bene, oggi in un periodo di crisi spesso l'imprenditore si trova davanti dei consulenti che comunque decidono di reinventarsi una professione ad un certo periodo della loro vita. Oggi non è così, il consulente aziendale deve iniziare a instaurare dei piccoli tasselli per permettere che quella notorietà non sia una notorietà su alcuni eventi e mettersi in bocca parole costruite da altri. Oggi la notorietà si raggiunge facendo delle azioni positive per il proprio territorio, risolvendo delle problematiche alle aziende e per cui, proprio perché ad oggi mi ritengo un esperto, un cultore della materia della consulenza aziendale, in virtù di questo fatto ho una grande responsabilità addosso e la responsabilità è quella di sensibilizzare gli imprenditori che in questo momento spero ci stiano ascoltando da casa, ma soprattutto i giovani. I giovani perché oggi si affacciano ad un mondo lavorativo abbastanza complicato, ma potrebbe essere semplice sburocratizzando il sistema, utilizzando un po' degli strumenti efficaci sia a livello di studio, facendo esperienza sul campo e soprattutto essere adeguati all'internazionalizzazione. Oggi non è più il lavoro nella Marsical Italia, oggi il lavoro è uguale a Europa. Rosa, hai appena accennato ai giovani, quali spesso dedichi alcune righe nei tuoi libri. Per i giovani e per questo territorio, quali le tue proposte in concreto, davvero in due battute? Sì, in concreto, bene. Per i giovani, come ho detto poc'anzi, li inviterei ad avere i piedi per terra, a credere sempre in se stessi, nei propri sogni, ma soprattutto ad effettuare delle piccole attività, studiare e avere una preparazione anche all'interno delle aziende, qualsiasi sia la tipologia di lavoro, anche non remunerata, però per permettere che al termine del percorso di studi non sia un curriculum in bianco. Mentre per il territorio, premetto che non sono un politico, però mi piacerebbe un po' guardare al periodo di crisi economica che stiamo vivendo. È una crisi mondiale, è una crisi globale. Tolta questa piccola problematica che potrebbe diventare un grande problema se non ci adeguiamo al passo con l'Europa, oggi diciamo che l'Italia continua ad essere sanzionata dall'Unione Europea. Perché? Perché comunque c'è il mancato recepimento di alcune direttive oppure vengono recepite in maniera errata. Quindi continuiamo ad essere sanzionati. Ma perché? Perché a volte l'Italia non è in grado di poter recepire queste direttive perché sono fortemente in contrasto con la nostra Costituzione. Per cui cosa si è fatto? Si è sburocratizzato il sistema, abbiamo voluto l'autonomia degli enti locali, quindi faccio un appello ai nostri politici, al nostro territorio, appunto per far sì che questa autonomia venga rispettata, quindi di attivare politiche attive di lavoro per i giovani e per il nostro territorio, partendo dal basso, dal territorio marsica, perché così facendo possiamo raggiungere anche delle belle poltrone nel Parlamento Europeo. Perché no? Esaustiva, grintosa, determinata e sorridente. Soprattutto. Ancora auguri per il modello 231 e in bocca al lupo anche eventualmente per il secondo libro che probabilmente avrai già in cantiere. Chi lo sa? Assolutamente sì. Crepi il lupo Luca e grazie. Grazie a te Rosa, buon lavoro e alla prossima bella occasione. Venerdì 17 giugno alle ore 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore a Celano, si etrà il concerto di premiazione per la quarta edizione del premio Giuseppe Corsi, città di Celano, che quest'anno è stato attribuito al maestro Giuseppe Iacobucci. Il premio viene organizzato dall'Associazione Corale Polifonica Giuseppe Corsi in collaborazione con il Comune di Celano e con il patrocino della provincia dell'Aquila, della Regione Abruzzo, della Presidenza del Senato della Repubblica. Giunto alla quarta edizione è stato istituzionalizzato dal Comune di Celano grazie all'attenzione dimostrata dall'intera amministrazione comunale e quest'anno è parte integrante del progetto Il Viaggio Misericordioso, che vede coinvolti altri centri abruzzesi e non, fino ad arrivare ad Assisi, dove si terrà il concerto conclusivo nel mese di ottobre. Il coro Giuseppe Corsi nel concerto propone il percorso musicale che parte dal disedire di Tommaso da Celano, passa per il Cantico delle Creature di San Francesco ed arriva ai mottetti di Giuseppe Corsi di Celano nel nome della Misericordia, tema dell'intero anno giubilare. Il premio Giuseppe Corsi quest'anno è stato attribuito dalla Commissione presieduta dalla professoressa Maria Rosaria Lignini al maestro Giuseppe Iacobucci per la sua eccellente capacità di suonare lo strumento tanto conosciuto quanto difficile che è la tromba e per la sua intensa attività concertistica e didattica che lo ha portato a conoscere successi in Italia e all'estero. In occasione della prima edizione sono stati premiati i due complessi bandistici celanesi per l'attività musicale svolta nella città di Celano e per i meriti artistici dei maestri, direttori e componenti dei complessi bandistici. Parteciperanno al concerto per il premio Giuseppe Corsi, il coro Giuseppe Corsi di Celano diretto dalla maestra Maria Rosaria Lignini, il coro Tava Dis di Pescina diretto dal maestro Mario Di Legge ed il trio Underground Studios. Concluderà il concerto il maestro Giuseppe Iacobucci alla tromba accompagnato al pianoforte dalla maestra Emilia Di Pasquale. Caritas Diocesana di Marsi ed Unitalsi, sempre dal diocesi, rendono noto che in occasione dell'anno santo della misericordia e del centenario delle apparizioni dell'Angelo della Pace ai pastorali di Fatima su iniziativa dell'Unitalsi Nazionale è iniziato il 2 aprile partendo da Roma l'itinerario nazionale della venerata immagine della Madonna Pellegrina proveniente dalla santuario di Fatima. Lunedì 13 giugno alle ore 17.30 arrivo della statua della Madonna di Fatima presso la parrocchia Madonna del Passo di Avezzano. Ore 18 Santa Messa preseduta da Monsignor Pietro Santoro Vescovo di Marsi. Ore 21 preghiera del Santo Rosario e processione sul Sagrato della Chiesa. Martedì 14 giugno invece ore 10.30 Santa Messa presso la parrocchia Madonna del Passo, naturalmente sempre di Avezzano. Si è svolto ad Assergi l'Aquila l'open day della ricerca manifestazione a promosta da Regione Abruzzo e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per la presentazione di alcune tra le più innovative iniziative scientifiche. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Aquila apre virtualmente le porte dei laboratori per mostrare le proprie attività come centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale con il fine di sviluppare realtà imprenditoriali innovative e tecnologiche sul territorio abruzzese. È un'occasione per chiare nuove collaborazioni tra università e aziende, territorio ed istituzioni partendo da un centro di ricerca all'avanguardia che deve essere considerato parte integrante del tessuto regionale. Con queste premesse oggi per l'intera giornata si è svolto ad Assergi l'Aquila l'open day della ricerca, la manifestazione promossa da Regione Abruzzo e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il programma ha previsto la presentazione di alcune tra le più innovative iniziative scientifiche, esempi di spin-off di successo e progetti nati nell'ambito di programmi di collaborazione con incontri distinti in gruppi per approfondimenti tematici con i responsabili delle attività coinvolgendo aziende che vanno dal settore dell'elettronica all'automobile e dal chimico-farmaceutico all'agroalimentare all'informazione e tecnologi. Ad aprire i lavori è stato il Vice Presidente della Giunta regionale Giovanni Loli che ha illustrato un'iniziativa nata nell'ambito del progetto sul tema dell'industria sostenibile. La giornata si è sviluppata nella concreta prospettiva di fornire informazioni utili capaci di legare l'utilizzo delle risorse per la ricerca connesse ai fondi sociali europeo e PON. È stata caratterizzata da dibattiti pomeridiani che hanno avuto come filo conduttore la necessità di aggregare soggetti con conoscenze diverse intorno ai progetti di ricerca. La Regione, come ha spiegato il Vice Presidente, ha messo a disposizione molte risorse, altre se ne aggiungeranno e si stima di poter arrivare nei prossimi anni ad un investimento pari a mezzo miliardo di euro come attività di ricerca finanziata. Ma ascoltiamo a riguardo proprio il Vice Presidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli. Siamo qui ad Assergi con il Vice Presidente Giovanni Lolli per questo Open Day sulla ricerca. Presidente, cosa può fare l'Istituto per le imprese abruzzesi nel campo della ricerca? Quello che vorrei che fosse chiaro è che qui stiamo facendo una cosa totalmente innovativa e discontinua con quello che in Abruzzo si è mai fatto, ma anche molto originale nel panorama nazionale, cioè noi stiamo mettendo insieme le aziende, le università, i centri di ricerca a partire da questo centro di ricerca, il centro di ricerca più importante d'Italia che noi abbiamo qui e che abbiamo vissuto sempre come un'entità lontana separata. La scelta strategica che abbiamo fatto e che preciseremo con la carta di Pescara, cioè puntare a una strategia dell'impresa abruzzese verso la sostenibilità, è una scelta che richiede moltissimi investimenti sulla ricerca. Noi abbiamo messo a disposizione già molte risorse pubbliche, altre ne metteremo, ma adesso la vera chiave del successo di questa operazione sta nel modo come si integreranno le attività di ricerca di base, le attività di trasferimento tecnologico alle imprese attraverso l'università, il centro di ricerca e le imprese principali. Naturalmente con l'obiettivo di coinvolgere il sistema delle piccole imprese e soprattutto dare vita a molte start-up, a molte spin-off, cioè a molte nuove attività. Parliamo di risorse, quanto vuole scommettere la Regione Abruzzo sulla ricerca? Noi mettendo insieme i fondi del FESR, con i fondi contenuti nel Masterplan, con i fondi specifici del cratere sismico e con la parte del PON riservata a noi abbiamo minimo 200 milioni di Euro per i prossimi anni. Tenete presente che sviluppano almeno il doppio, quindi noi abbiamo almeno 400 milioni di Euro. Se aggiungiamo a questi le cose in più che possiamo fare con l'FSC, noi non avremo meno di mezzo miliardo di Euro di attività di ricerca finanziata. In più bisogna aggiungere attività autofinanziata che non passa attraverso canali di cofinanziamento regione. Quindi possiamo diventare, se lavoriamo bene, una delle regioni, siamo già una delle regioni più industrializzate d'Italia, possiamo diventare una delle regioni con maggiore tasso di ricerca d'Italia. Ho molte le aziende abruzzesi che hanno risposto a questo appello oggi per questo scambio di informazioni. C'è da ritenersi soddisfatti? Beh, insomma, abbiamo qui le principali aziende del processo, ho incominciato l'FCA, quindi direi di sì. Ci stiamo lavorando molto, non era mai successo, insomma, non è la prima volta. Abbiamo visto un FATER, lo vedremo di nuovo nei prossimi giorni. Noi con le aziende ci stiamo lavorando. La prossima settimana verranno fornite a tutti i consiglieri regionali le chiavi di accesso al sistema che gestisce il bilancio regionale. Lo afferma il direttore generale della giunta regionale Cristina Girardis, rispondendo ad una interrogazione del consigliere Sara Marcozzi. Nei prossimi giorni, insomma, tutto l'iter avviato dal direttore generale qualche settimana fa relativo all'accesso al sistema informatico contabile, arriva a compimento dando sostanza a quel percorso di trasparenza e dialogo con i cittadini e con i suoi rappresentanti politici che la giunta regionale ha voluto avviare con la nuova legislatura. Nel rispondere al consigliere Marcozzi, il direttore generale Cristina Girardis sottolinea l'immediatezza con la quale è stato investito il dipartimento competente all'indomani della prima richiesta di fornitura delle chiavi di accesso per verificare le modalità tecniche con cui procedere. Ma soprattutto mi preve sottolineare, aggiunge, di non aver tenuto alcuna condotta omissiva, ciò che non mi appartiene per formazione professionale e per etica personale, ma di avere al contrario avviato un necessario percorso con gli uffici finanziari per introdurre necessarie modifiche di integrazioni all'intero sistema informatico. Non ultima, la profilazione dell'utenza dedicata ai consiglieri regionali. Questo percorso ci ha permesso di essere pronti a fornire dalla prossima settimana a tutti i consiglieri regionali le chiavi d'accesso per accedere al sistema. Domani 10 giugno alle ore 12.30 nella sala consigliare del Comune di Avezzano conferenza stampa di presentazione del progetto Ginnastica dolce per adulti. L'amministrazione comunale nell'ambito delle sue funzioni istituzionali è chiamata tra l'altro a sostenere iniziative di carattere sociale in particolare minate al benessere psicofisico delle persone adulte ed anziane. Quindi ha aderito al progetto presentato dal Centro Giuridico del Cittadino per organizzare una serie di attività ludiche che vedono impegnati principalmente gli adulti ed i cittadini della terza età. L'obiettivo è quello di combattere la sedentarietà e l'isolamento dell'individuo, di stimolare uno stile di vita attivo sia in senso fisico che psicologico e sociale. In attuazione dell'articolo di legge recante misure per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, dal primo giugno prossimo le imprese individuali e le società come anche professionisti iscritti in albi ed elenchi riceveranno la notifica delle cartelle di pagamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi in IPEC tenuto dall'Ministerio dello Sviluppo Economico. La nuova modalità di notifica si inserisce nel piano di rafforzamento del e-government e di diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata e prevede che qualora l'invio della cartella all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l'agente di riscossione provvede alla notifica dell'atto mediante deposito telematico presso la Camere di Commercio competente per territorio e gli dà comunicazione al destinatario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il sistema delle Camere di Commercio a tal fine ha predisposto un servizio informatico che consentirà al contribuente, impresa o professionista la consultazione garantendo i necessari requisiti di riservatezza ma soprattutto di sicurezza. Domenica 12 giugno si interrà il primo degli appuntamenti del ciclo in viaggio lungo Laterno a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Viaggi e Miraggi Abruzzo costituitasi di recente dopo anni di attività informali realizzate in collaborazione con Viaggi e Miraggi la più grande rete di turismo responsabile in Italia e all'estero con progetti di viaggio in oltre 40 paesi del mondo. Fare turismo responsabile significa conoscere nuovi luoghi rispettando l'ambiente e le comunità locali. Viaggi e Miraggi Abruzzo ha l'obiettivo di promuovere questa tipologia di turismo anche nella nostra regione con itinerari di viaggio di uno o più giorni. Il viaggio lungo Laterno rappresenta il primo degli appuntamenti in calendario, una passeggiata responsabile ad impatto zero. Si viaggerà in treno percorrendo la splendida tratta L'Aquila-Sulmona che offre scorci inaspettati di borghi e ponti sul fiume Eterno fino a Raiano. Scesi dal treno sono previste diverse tappe percorribili facilmente a piedi. La prima non potrà che essere il ciliegetto più grande del paese dove si scoprirà come l'antico legame dei raianesi con questo predibatto frutto si rinnova attraverso progetti di agricoltura biologica e sociale. A seguire ci si sposterà nella riserva naturale delle gole di San Venanzio per ammirare l'ereo incastonato nella roccia risalente al XV-XVI secolo. Verrà poi visitato l'antico Frantoio Fantasia che nel quartiere di Sant'Antonio costituisce un vero e proprio museo della storia e della cultura rurale raianese. Prima di riprendere il treno per l'Aquila ci sarà tempo per una degustazione di gelato artigianale a base di ingredienti locali speciali come la ricotta di pecora e l'olio d'oliva. Bene, prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it. Tra le altre cose sarà possibile rivedere i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie dell'attenzione a risentirci. Grazie. 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 Grazie.